La data per le amministrative, anche considerando gli scenari nazionali con il PD chiamato alle primarie che si svolgeranno il 30 aprile, potrebbe verosimilmente essere quella dell'11 giugno, come già anticipato da alcuni media. Poco più di due mesi e mezzo che saranno necessari ai diversi schieramenti e partiti per mettere in campo coalizioni e candidature in grado di puntare alla fascia tricolore indossata per quasi due mandati da Massimo Cialente. Nel centro-sinistra la situazione è abbastanza chiara, con le elezioni primarie di coalizione che verosimilmente si svolgeranno il 2 aprile e i pretendenti alla candidatura sono già in moto per raccogliere le firme. Praticamente certi della partita il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci e il presidente della Gran Sasso Acqua Merico Di Benedetto, mentre nelle prossime ore scioglierà le riserve il presidente del Consiglio Carlo Benedetti. Ne Democrat è in corso un ultimo tentativo per convincere il vicepresidente della Giunta Lolli a scendere in campo, ma è destinato ad andare a vuoto, così come la leonata formazione dei democratici e progressisti sta ragionando su un'ipotesi di candidatura, che potrebbe convergere sul presidente della commissione bilancio ed ex SEL, Giustino Masciocco. Attesa anche una mossa del vice sindaco Nicola Trifuoggi, per molti aspirante sindaco a capo di formazione afferente ad una parte dei partiti di sinistra e liste civiche. Movimenti civici che però, come hanno spiegato Vincenzo Vittorini ed Ettore di Cesare, non convergeranno sul nome dell'ex procuratore di Pescara. I due esponenti di appello per l'Aquila che vogliamo hanno lanciato la loro sfida ed è possibile che sia lo stesso di Cesare, dopo il tentativo del 2012, a tentare una nuova avventura per la fascia di sindaco. Nel centro-destra, situazione ancora tutta da definire, i salviniani hanno da tempo la loro proposta ed è quella di Luigi D'Eramo, al quale si è avvicinato anche l'ex manager della ASL, Giancarlo Silveri. Fratelli d'Italia è pronta a sostenere la candidatura di Pierluigi Biondi, che nel weekend appena trascorso ha presentato alla città il suo progetto politico. In Forza Italia si pensa di una delle candidature del capogruppo azzurro in consiglio comunale Guido Liris, ma non è esclusa l'ipotesi di una convergenza sull'ex sindaco di Villa Sant'Angelo Pierluigi Biondi. Molto dipenderà dalle trattative e dalle decisioni che verranno prese dal tavolo nazionale sulle trattative, anche se i salviniani continuano a chiedere le primarie, anche per il centro-destra, una richiesta che probabilmente cadrà nel vuoto e li porterà a correre in solitaria. Nel Movimento 5 Stelle, infine, nei giorni scorsi, si sono chiuse le consultazioni online e a sorpresa Fabrizio Righetti ha avuto la meglio sull'avvocato Fausto Corti. Nei pentastellati comunque, da tempo è nata una spaccatura tra i meetup cittadini e la candidatura dell'ingegner Aquilano, e la conseguente concessione del simbolo da parte della Casaleggio Associati non è per nulla scontata. Quello appena trascorso è forse uno dei weekend più caotici che abbia vissuto negli ultimi travagliati anni il Gran Sasso. Tutto inizia con la comunicazione dell'Ustif, in pratica agli uffici tecnici del Ministero dei Trasporti, che con una nota hanno imposto la chiusura della seggiovia Fontari per motivi di sicurezza. Di contro, il direttore d'esercizio degli impianti di Campo Imperatore Marco Cordeschi ed il presidente del centro turistico Giuliani hanno ribadito la bontà dagli interventi di manutenzione e messa in sicurezza effettuati sull'impianto di per sé obsoleto e che già da alcuni anni doveva essere sostituito con una nuova seggiovia. Da cinque anni la fonte arriva avanti con proroghe annuali, ma la realtà è che l'impianto è arrivato dopo 20 anni a fine vita. Ed il consigliere Liris ha reso pubbliche due lettere della ditta Letner, costruttrice degli impianti, che prende le distanze dalle rassicurazioni giunte dal centro turistico e spiega che gli interventi fatti non sono stati certificati dai tecnici dell'azienda. In mezzo ci sono gli utenti e gli operatori della montagna, penalizzati da una situazione diventata ormai insostenibile. Il direttore della scuola sci Gran Sasso, Luigi Faccia, non ha potuto far altro che annunciare la chiusura della scuola sci per motivi oggettivi, mancanza di sciatori. Uno stop si spera temporaneo, anche se i tempi delle verifiche dell'Ustif non si annunciano brevi e potrebbero arrivare a stagione già terminata. Sono solo 16, infatti, fino ad oggi, i giorni di apertura della stazione scistica di Campo Imperatore, che neanche nel livello opposto terremoto del 2009 ha vissuto un momento tanto buio. Oggi il sindaco Cialente ha detto che telefonerà al ministro del Rio, ma le speranze che le cose possano tornare alla normalità sono ridotte all'omicino. Con buona pace e tanta rabbia, di albergatori costretti ad accettare le disdette delle prenotazioni, scuole sci addetti al noleggio delle attrezzature e possessori di schipass pronti a chiedere il rimborso. Tanto ci spiace moltissimo aver fornito un secondo tempo, una prestazione in cui dopo il 1.0 ci siamo effettivamente squagliati. Come si viene fuori bisognerà ovviamente ragionare bene con la solità, capire bene quel che dobbiamo fare, nel senso che ovviamente la situazione di oggi non era semplice sotto nessun punto di vista, visti i trascorsi della settimana, visto il fatto che ci sono mancati improvvisamente sei giocatori, quindi non si poteva sicuramente pensare di fare delle cose straordinarie. Sicuramente neanche perdere 3-0 in questa maniera non è nelle corde comunque di quelli che hanno giocato. Come procedere, come sistemare, bisogna fare un'analisi attenta e valutare quali sono gli obiettivi a breve termine e quelli eventualmente a lungo termine, perché ovviamente l'obiettivo principale è sfumato, ma non oggi sicuramente, anche se oggi abbiamo letto Dio sicuramente a quello che la società voleva come obiettivo primario. Non è questo sicuramente l'esordio che pensavo, non è questa la squadra che pensavo di poter allenare. Una giornata così, con questa giusta contestazione, non è un bel esordio sicuramente. Pensa di poter proseguire? Qual è la situazione? Io sto come per lavorare, devo ascoltare ovviamente di dire la società cosa vuol fare, come vuol procedere in questo contesto, ma stiamo parlando a pochi minuti dopo la partita, quindi la delusione è tantissima per lo svolgimento della partita, dove alla fine nel primo tempo, pur non andando a un grosso ritmo, si era fatto normalmente, contestualmente a come il periodo in cui veniva la squadra. Sicuramente il gol è stato un'amazzata che ci ha poi impedito di provare una reazione. Abbiamo provato l'unica carta a una disposizione che era Peluso, anche se veniva da un infortunio già di un mese, quindi squilibrandoci ulteriormente abbiamo subito due ripartenze che ci hanno punito. La quarta giornata del pool promozione vede ancora una volta l'Aquila Rugby Club vittoriosa a giudicarsi 4 punti in classifica nella partita in casa contro la Ligure Prorecco, chiusa 16-8. Un match combattuto in una giornata uggiosa che non ha sicuramente facilitato il gioco, ma che non ha frenato l'entusiasmo e la determinazione neroverde. Il primo tempo si chiude in vantaggio per i Liguri che concretizzano 8 punti con calcio di punizione dalla piazzola di Agnel e meta del numero 8 Kevin Cacciagrano al termine di un'azione di Rolling Mall. La ripresa si apre in condizioni meteo migliorate e l'Aquila Rugby decisa a riprendersi il vantaggio, con meta di Marcello Angelini a conclusione di un'azione ben articolata, un cambio d'angolo veloce e tre quarti schierati in superiorità numerica. Gli spettatori del fattori sono in tripudio. Il match prosegue brioso e senza esclusione di colpi. L'Aquila Rugby terminerà la partita con un uomo in meno a 10 minuti dalla fine. Gli squali Liguri non concretizzano alcun punto e scivolano al terzo posto in classifica, mentre l'Aquila Rugby Club mantiene saldamente la seconda posizione a seguito dei medicei. Man of the match Camulli, new entry nel team neroverde, artefice di diverse azioni di gioco briose e interessanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.